Tante perché raccontiamo del nuovo posizionamento di MSC Crocevere, ma è un giorno importante anche perché segue l'evoluzione dell'azienda di questi anni, di fatto terminato un primo piano industriale che ha segnato un'importantissima crescita dell'azienda fino a raggiungere il milione e settecentomila passeggeri. Con questo nuovo posizionamento lanciamo il futuro dell'azienda nei prossimi cinque anni che verranno investiti oltre 5 miliardi di euro, sette nuove unità e una crescita che raddoppierà la quale capacità. Per raccontarvi tutto questo, ma principalmente del posizionamento e del nuovo spot appena lanciato, invito sul palco il nostro amministratore delegato Gianni Onorato. Grazie a tutti.